Il nastro della storia si riavvolge in un lampo e siamo di nuovo lì, in quel fatidico giorno del 1916, quando Umberto Boccioni cadde da cavallo. Papà diceva proprio che era quasi come se sentisse che la sua vita non sarebbe stata lunga. Scalpitava per sovvertire le regole della pittura e della scultura. Ma gli occorreva la miccia per far saltare in aria la polveriera. Boccioni ha tradotto la poesia in arte, dando forma e materia alla più importante avanguardia artistica del primo novecento in Europa, il futurismo. Marinetti era un appassionato d'arte, cominciò a raccogliere giovani valorosi. Si incontrarono e fu uno degli eventi più importanti del novecento. Si vuole cambiare il mondo, non solo politicamente, geograficamente, ma esteticamente. Obvious that if you're a young artist, looking to the future, you only had one place to go, and that was Paris. Eppure, dopo la morte di Boccioni, le sue sculture hanno un destino misterioso. Di questo genio italiano, che è stato uno dei più grandi artisti del novecento, sappiamo molto meno di quanto si possa immaginare. Ma mai come oggi, l'arte di Boccioni ci appare moderna, contemporanea, formidabile.